Ciao a tutti da Giordano Giretti. Oggi in breve vi spiegherò come puntare la parabola ovunque voi siate per poi trasmettere nel web. Accendiamo ora il puntamento automatico con il telecomando. Poi dovremo aspettare circa 30 secondi in modo tale che il Triax si allini con il satellite. Per chi non è accessoriato in elettrico dovrà farlo a mano, un tempo un po' più lungo ma sempre valido e buono. Ora trovato il punto nord sud est ovest giusto la rotazione si ferma e come potrete sentire un cicalino acustico ci avverte con questo segnale. Nel frattempo accendiamo il computer e andiamo sulla pagina relativa al puntamento 192 168 100.1 install che funziona anche se internet ancora non è connesso. Selezioniamo il colore dello spot nelle marche il 2 arancione. Qui per fare il punto fine cioè regolare ancora meglio il puntamento tra parabola e satellite spostiamo fisicamente più a destra o più a sinistra la parabola e nello stesso tempo ascoltiamo bene il cicalino acustico. Quando il segnale è debole il cicalino va ad intervalli lenti. Quando il segnale è più buono il cicalino aumenterà di intensità. Quando invece il segnale è ottimo il cicalino farà un rumore fisso. Adesso facciamo la stessa cosa per il verticale cioè nord e sud. Naturalmente questi movimenti li potete fare anche a mano libera. Ora come vedete i tre quadrati sono evidenziati in nero quindi ottimo il cicalino ora è fisso. Visualizzato questo premiamo avanti. Ora bisognerà attendere circa altri 30 o 40 secondi per l'allinamento più preciso di tutta l'attrezzatura con il satellite che è a circa 32 mila chilometri di distanza. Potrebbe capitare come in questo caso che il software abbia bisogno di un aggiornamento quindi basterà aspettare. Tutto questo senza ancora avere la linea internet. Sul modem quando questi quattro simboli saranno tutti blu l'allineamento è avvenuto con successo. Ora possiamo navigare e trasmettere sul web. Per sicurezza controlliamo anche se i parametri del 3x sono regolari. Se per caso ancora non è riuscito a navigare basterà spegnere per pochi secondi il modem e poi riaccenderlo. Ora sempre dal software inseriamo user password per poter ricaricare la nostra linea internet. Andare su azioni, gestione evento live e qui prenoti il tuo evento scegliendo megabyte orari e giorno. Bene, vi ringrazio del vostro tempo. Un salutone a tutti da Giordano Giretti.